She'll ask me why none of her men stay Dove Gallo sta per Celtico, cioè Gallo si riferisce ai Celti Lei non deve essere limitato, lei deve aprire la sua mente Ci possono essere anche due ingressi, capito? Hai pubblicato un libro ispirato alle città invisibili di Italo Caldino Sì, mi piace viaggiare, faccio delle foto, vedo dei posti In qualche modo cerco di mettere nei quadri quello che ho visto Buon fotoshooting, divertitevi, mi raccomando Fin d'anque Fin d'anque Ma pensavo fosse il campanello No, no No Oh dottore, ma come fa ad essere così efficiente? Mi metto dai ringraziamenti, lo faccio io Lo faccio io Che sei una garanzia Aspetta che mi concentro Vai, vai Giovedì alle 21 mi ritorni in mente show Ospite Angela Betta Casale Artista e illustratrice di libri